È un'estate calda per i lavoratori della grande distribuzione nella nostra regione Cipollini. Ci sono tante vertenze in atto, ma ci sono anche delle novità che potrebbero maturare a breve. Esatto, la situazione è molto delicata. Da una parte abbiamo delle vertenze in atto. Una era quella dell'Iper di Città Sant'Angelo con 32 subri, ma nello stesso momento stiamo discutendo con Conad da 66 subri nel Chietino. E dall'altra parte è arrivata una notizia che stravolge un po' tutto il panorama della grande distribuzione nel senso che Iper, gruppo FinIper, lascia l'Abruzzo, quindi i tre ipermercati, ed è il gruppo presente con un maggior numero di ipermercati in Abruzzo. E questa cosa potrebbe creare delle gravi ripercussioni, perché stiamo parlando di un gruppo molto solido che da 25 anni ad esempio a Città Sant'Angelo è presente e l'uscita di questo gruppo è preoccupante anche perché potrebbe scatenare una dinamica per cui anche altri gruppi potrebbero decidere di lasciare l'Abruzzo. Voi siete al lavoro per mantenere e garantire gli attuali standard livelli occupazionali? Esattamente, questa è la prima preoccupazione, è quella di mantenere tutti i 600 posti di lavoro di Iper attualmente in essere. Noi chiediamo che ci sia un tavolo regionale di discussione, perché la grande distribuzione oggi ha bisogno di una regia, di un qualcosa che permetta di salvaguardare i posti di lavoro o di recuperare i posti di lavoro di chi esce dalle procedure di esubero o di chi potrebbe perdere il posto di lavoro a breve.